Presentata ieri sera presso l'Ora Consigliare del Comune di Petina la 50esima edizione della Festa della Fragolina di Bosco su cui si punta come evento di promozione turistica, culturale ed economica del territorio. A margine della presentazione della festa in programma nei giorni del 15 e 16 giugno che prevede un ricco cartellone di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici si è tenuto un convegno moderato da Umberto Di Benedetto voluto da Simone Zito coordinatore del Forum dei Giovani di Petina e dal presidente della Proloco Cosimo Avallone finalizzato a sensibilizzare sulle potenzialità di sviluppo che possono nascere intorno alla Fragolina di Bosco. Un progetto concreto e possibile viste anche le qualità dei prodotti del sottobosco tipici del territorio di Petina. Per il presidente della Proloco infatti la Fragolina di Bosco può diventare prodotto di nicchia intorno al quale creare sviluppo. Negli anni è andata scemando la coltivazione del prodotto tipico che è la Fragolina di Bosco. Per l'incente nel mercato sono entrate purtroppo le Fragoline francesi. Siccome il nostro prodotto non è stato mai valorizzato sia a livello economico, poi essendo un prodotto di nicchia perché viene prodotto nei primi 15 giorni di giugno generalmente e quindi molto delicato e difficile da lavorare, dovrebbe essere valorizzato molto molto di più il prodotto in modo da farne capire la peculiarità e la particolarità di questo prodotto rispetto all'altro prodotto che è sul mercato. Questa sarebbe la cosa fondamentale da fare. Purtroppo non è stata fatta in passato quando la produzione era maggiore e quindi piano piano dobbiamo incentivare gli agricoltori del paese a produrre e a riprendere questa produzione della Fragolina di Bosco. La Fragolina di Bosco per il coordinatore del forum dei giovani di Petina Simone Zito può anche essere veicolo per potenziare altri settori come il turismo ed è proprio in questo progetto che si inserisce la festa della Fragolina di Bosco. Noi giovani ci stiamo impegnando moltissimo per riproporre questo nostro prodotto anche perché purtroppo sta svanendo nelle nostre zone, è un prodotto fantastico, buonissimo che abbiamo solo nei nostri territori però a causa della scarsa coltivazione sta un po' svanendo. Infatti le coltivazioni si riducono sempre di più e abbiamo proposto appunto questo convegno per la cinquantesima edizione della Sagra della Fragola di Bosco appunto come modo per rilanciarlo e magari vedere anche una risposta da noi giovani. È uno degli argomenti che abbiamo trattato di più anche nelle nostre riunioni con il forum quindi speriamo di smuovere un po' le acque nel nostro territorio. A relazionare sul tema ieri a Petina Francesco Pascale della Loio SRL, Martino Di Rosario presidente del Consiglio Comunale della Comunità Montana degli Alburni, Vito Marano docente di Agraria. Presente inoltre anche il presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano Valentino Di Brizzi che elogiando la determinazione dei ragazzi nel voler creare alternative valide all'abbandono delle proprie terre ha però anche evidenziato come in questo difficile compito sono purtroppo spesso lasciati soli. Per Di Brizzi la politica e le istituzioni che sempre più spesso parlano di sviluppo delle aree interne dovrebbero trasformare le parole in azioni concrete. Un discorso condiviso anche dal sindaco di Petina Domenico D'Amato orgoglioso dei suoi ragazzi. In un momento storico in cui si assiste a un callum demografico, a una desertificazione demografica del sud Italia, delle aree interne, questa iniziativa partita dei giovani che l'amministrazione ha coinvolto dal primo momento del suo insediamento rappresenta un vanto, sicuramente un vanto per Petina ed è una speranza anche sulla riscoperta di un prodotto, la fragolina di Bosco, che ha visto negli ultimi anni un calo di produzione e un disinteresse. Speriamo che in occasione anche della cinquantesima edizione della sagra della fragolina di Bosco, che si terrà il 15 e 16 del mese di giugno, ci possa essere un ritrovato interesse e una riscoperta di questo prodotto di nicchia che rende famosa Petina nella regione campagna.